A pochi giorni dalle amministrative a Teramo l'ex candidato Carlo Antonetti ha voluto tracciare il suo bilancio. In primis ha voluto ringraziare gli oltre 10.000 cittadini che hanno creduto nel suo progetto, ma anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È un'occasione per ringraziare tutti coloro, quindi i vertici di partito e i candidati che lealmente e correttamente hanno accompagnato il mio percorso. Non si tratta di togliere i sassolini, si tratta di mantenere l'impegno che ho preso con i cittadini. Ho preso l'impegno con i cittadini di essere un cittadino normale, di parlare un linguaggio semplice, di parlare un linguaggio vero e di essere corretto e leale con loro e con i miei compagni e con la mia squadra. In particolare Antonetti si è detto rammaricato perché nella squadra da lui creata ci sono stati alcuni giocatori che hanno giocato per perdere, tradendo di fatto i cittadini che hanno creduto nel progetto. Quando giochi in una squadra dove tu fai un gol e ci sono dei compagni che fanno due autogol perché si sono messi d'accordo con l'avversario, sicuramente quando torni negli spogliatoi devi tutelare quelli che sono i valori della realtà e della correttezza. In particolare il dato che salta all'occhio è quello derivante dall'analisi del voto disgiunto, meno 473 per Antonetti e più 1.233 per Dalberto, per un totale di 1.706 voti di differenza, pari ad una percentuale di circa il 6%. Questo è successo e nessuno ha imposto a nessuno di scegliere di appoggiare il mio progetto. Chi lo ha scelto lo ha fatto evidentemente convintamente. Oggi dire che i cittadini sono stati disorientati piuttosto che non ero il candidato di nessuno da parte dei rappresentanti della Lega mi rende, mi sembra veramente fuori da una logica laddove devo dire che la Lega in base al suo risultato, i voti disgiunti che ha fatto fare, l'appoggio che ha dato con i voti diretti ad Alberto ha consentito che questa squadra perdesse.